Buon pomeriggio, bentornati al Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. In queste settimane ci stiamo dedicando a una carrellata sui personaggi politici che stanno animando questa campagna elettorale del 25 settembre. Ricordo a tutti che noi votiamo sia per le politiche che per le regionali. Oggi in studio abbiamo un ospite che arriva da Roma, con tanti impegni istituzionali sulle spalle, benvenuta Stefania Craxi. Grazie, buongiorno a lei e anche ai suoi ascoltatori. Il suo cognome racconta una storia, noi abbiamo intitolato questa puntata una storia tutta siciliana, leviamoci subito il dente. C'è questa polemica sui politici paracadutati, ma in realtà lei pur avendo una storia politica e professionale tutta declinata nel segno di Milano e Roma, ma insomma la sua famiglia ha delle origini siciliane? La mia famiglia ha origini siciliane di San Fratello. In merito ai paracadutati le dirò due cose. Uno, conta più la carta d'identità o conta più che cosa si può fare in termini di relazioni nazionali, internazionali per questo territorio. L'altra cosa che le dico è che io i rapporti con le mie radici familiari le ho sempre tenuti, sono cittadina… A questo proposito, prima di ricordare dove è candidata il senatore Craxi, perché ci tiene a questo, no? È una carica della Repubblica. Quindi si declina sempre senatore, perfetto. Abbiamo, diciamo, ci ha mandato un video Stefania Craxi, prego alla regina di mandarlo in onda, dove si vede, diciamo, frecciare su un cavallo sanfratellano, no? C'è questa passione proprio per questa terra. A lei non manca mai la festa del 10 maggio a San Fratello? No, è la festa dei santi patroni Cirino Alfio e Filadelfio e generalmente io guido quella processione montando un sanfratellano, perché in quella terra si allevano cavalli sanfratellani e probabilmente i miei avi facevano quello, se no non si capisce come da milanese avessi avuto questa passione per i cavalli sin da bambina. E io tutti gli anni ritorno, come del resto questa Sicilia l'ho girata in lungo e in largo e non ho mancato di tenere i rapporti anche quando ero al Ministero degli Esteri. Ora faremo una piccola escursione, facciamo un tour siciliano insieme al senatore Craxi che ricordo a tutti, in questo momento è Presidente della Commissione Affari Esteri del Senato, quindi belle rogne da smazzarsi in questo periodo. Diciamo che io ritengo questo uno dei periodi dalla Seconda Guerra Mondiale più gravido di pericoli per l'umanità. E con questa battuta potremmo concludere qui e affidarci alle buone stelle e capire cosa succede, però io vorrei ricordare a tutti che Stefania Craxi è candidata al Senato col centro-destra per Forza Italia nel collegio di Gela, Agrigento e Caltanissetta, proprio nel cuore della Sicilia. Peraltro se parliamo di storia, Seconda Guerra Mondiale, Gela ci ricorda un pochettino lo sbarco degli alleati, la Seconda Guerra Mondiale. Arriviamo a parlare appunto dei suoi incarichi sia ministeriali che al Parlamento, lei si è occupata moltissimo di esseri, ovviamente va anche fatto alla tradizione di famiglia, suo papà Bettino Craxi è stato uno statista con delle relazioni internazionali. La Sicilia al centro del Mediterraneo, piattaforma geopolitica, cerniera tra l'Europa, l'Africa e l'Asia. Il senatore Craxi cosa può fare per questa terra? Partiamo da alcune criticità. Emergenza migranti, lei nel 2011 era sottosegretario quando abbiamo trascorso il periodo delle rivoluzioni arabe, con tutto quello che è successo in Tunisia, in Libia, con la nascita di questo fronte migratorio. Lei è stata a Lampedusa recentemente, ci racconta un po' che cosa succede a Lampedusa e come potrà da senatore rappresentare la Sicilia. Io sono stata a Lampedusa l'altro giorno dopo 13 anni, ero stata durante i prodromi dell'emergenza migratoria. Sono passati 13 anni e siamo sempre in emergenza. Questo non è possibile. Non è possibile perché l'immigrazione è un fenomeno epocale, non si può scaricare un fenomeno epocale su delle comunità che già soffrono altre problematiche. Ricordo che Lampedusa è un'isola nell'isola, collegamenti difficili con il territorio, quindi di difficoltà sia su fronte sanitario, su tanti fronti, non si può scaricare questo fenomeno epocale su un'intera comunità. Bisogna che l'Europa si renda conto che Lampedusa non è un'isola italiana in mezzo al Mediterraneo, è la frontiera dell'Europa a sud. Quindi l'Europa deve farsi carico di questo problema. Non si prendono i migranti, ma in termini di risorse devono aiutare per gestire al meglio questo fenomeno e anche per aiutare quella comunità che ha gravi problemi di sviluppo anche perché il fenomeno migratorio incide molto anche sui costi dell'isola. Sui costi dell'isola, ma anche deprime quella che potrebbe essere la principale voce di fatturato del territorio, il turismo. Perché come si fa a conciliare l'esistenza di un'isola a vocazione turistica e peschiera con una continua pressione dell'emergenza dei migranti? Quello per la verità no, nel senso che i migranti sono molto separati, infatti i turisti spesso non li vedono e chiedono, è diventata un'attrazione turistica. Il problema è la gestione. Che è pazzesco immaginare il dramma dei migranti come un'attrazione. Perché costa la benzina per la guardia costiera o la guardia di finanza che fa circa 90 interventi al giorno, nei periodi estivi, perché comunque quel centro, il primo ricovero è indecente, perché comunque trasferire questi migranti è un costo per l'Italia e quindi su queste cose l'Europa deve intervenire e una battaglia in Europa bisogna farlo. Secondo lei dovrebbe essere un intervento a favore della comunità direttamente e un intervento mediato allo Stato? Secondo me devono essere due cose. Intanto bisogna ripristinare Frontex. Sono assolutamente d'accordo con lei. Che funzionava molto meglio. Quindi in pratica evitare che ci siano le ONG a raccogliere i migranti e dare, come dire, facciamolo fare a chi lo fa fare di mestiere, no? Esattamente. E poi l'altra cosa è assolutamente un ristoro per le comunità che soffrono, ripeto, di questo fenomeno che è un fenomeno epocale, quindi non si fermerà. Nella storia di umanità un fenomeno migratorio non si è mai fermato. Non si è mai fermato e per di più hanno già difficoltà di partenza, quindi sicuramente un ristoro per le comunità ci vuole e io farò una battaglia se sarò eletta in Europa perché questo avvenga. Perfetto. Abbiamo parlato di Lampedusa e delle emergenze migranti, però nel corso della sua carriera lei ha affrontato anche un altro dramma storico, quello dei pescherecci sequestrati in Libia. A Mazzara del Vallo, diciamo, ora va un po' meglio, però c'è questa sempre contesa infinita delle acque territoriali che Davia ha messo una linea andando oltre i principi internazionali. Ma chi ha ragione in questa contesa? E come si fa a non distruggere il patrimonio della pesca a Mazzara del Vallo? Anche se non è esattamente nel suo collegio, però è un'esperienza che lei dà un contributo alla Sicilia. Io me ne sono occupata tanto che sono cittadina onoraria di Mazzara del Vallo, perché quando ero al Ministero degli Affari Esteri mi sono spesso occupata a sostegno della marineria di Mazzara del Vallo. Chi ha ragione? Chi ha ragione è complicato, perché la vera verità è che mentre noi dobbiamo sottostare alle regole dettate dalla Unione Europea, dall'altra sponda del Mediterraneo, ciò non è, non è, non sono rispettate, non devono sottostare, quindi c'è un problema di fondo da risolvere. Dopodiché io non solo dalla Libia, gliel'ho portati fuori dai porti tunisini, dai porti maltesi. Eh perché molto spesso non ci ricordiamo che la guerra dei pescherecci non è soltanto in Libia, ma anche la Tunisia che dovrebbe essere un paese a noi amico, insomma, è storico. Però diciamo che tante volte siamo anche noi a sconfinare, però ripeto, c'è una difficoltà di fondo. Noi dobbiamo rispettare regole che i paesi frontalieri non rispettano perché non sono obbligati a rispettarle. Facciamo un poco di polemica politica, proprio parlando della vicenda dei pescherecci siciliani. Io ho cristallizzato nella memoria l'immagine dell'ex premier Conte di Luigi Di Maio su un tappeto rosso che entrano nel bunker del generale Aftar a Bengasi. Ma è concepibile che la politica estera si faccia così in ginocchio sul tappeto rosso dal leader della Cirenaiga? Ma soprattutto non mi faccia parlare di Conte di Di Maio che li considero inadeguati al compito. Per di più mi fanno ridere Conte quando dice bisogna cambiare. Sono stati cinque anni al governo con qualsiasi forza politica, di destra o di sinistra, piuttosto che lasciare la poltrona. Quindi se si parla di cambiare non riguarda loro. Io penso che non si possa pensare di governare un paese senza avere coscienza della sua proiezione geopolitica. Bisogna avere ben chiare quali sono le coordinate dell'Italia. Sono un filo trantismo della ragione, quindi l'amicizia con quel popolo si è nutrita della bandiera della libertà. Noi saremo leali a questa amicizia, ma questo non significa che noi dobbiamo essere subalterni. L'altra coordinata è... Quindi alleati alla Nato ma non subalterni alla Nato? Alleati agli americani ma non subalterni. Beh, onestamente devo fare una citazione storica. Mi viene in mente l'episodio di Sigonella quando suo papà, presidente del Consiglio, disse no al governo americano per il... Io di quella storia figlia sono. Siamo europeisti, ma anche qua non è che in Europa si deve rinunciare a difendere gli interessi nazionali. Noi abbiamo avuto un'Europa costruita sulle banche, sulle burocrazie dove spesso i nostri interessi nazionali non venivano difesi. Io penso che il prossimo governo dovrà difendere in Europa gli interessi nazionali, un'Europa che deve essere un'Europa più democratica e più politica. Un'Europa di popoli e meno delle banche. Bravo. E l'ultima cosa l'ha detta lei prima, il Mediterraneo. Il Mediterraneo è quel mare spesso soccato in armi dove ancora oggi noi ci giochiamo il nostro futuro. Noi dal Mediterraneo possiamo prendere tutti i guai che vengono da quella regione, il fenomeno migratorio incontrollato, l'instabilità del Mediterraneo... Di traffici di armi, di esseri umani... Oppure possiamo cogliere delle opportunità. Io credo che per la Sicilia essere al centro del Mediterraneo sia una grande cosa perché può veramente diventare... Quindi altro che paracadutata. Lei ha messo l'elmetto e il giubbotto antiproiettile e viene qui a rivendicare un ruolo centrale della Sicilia nel Mediterraneo. Io sono qua non per strappare un seggio, sono qua per prendermi una responsabilità verso una comunità. Chi mi conosce sa che io sono una donna appassionata che sa assumersi responsabilità. Che bella risposta. Parliamo un pochettino di Gela, dei suoi problemi. Gela è il capoluogo di questo collegio che raggruppa anche Agrigento e Caltanissetta. Lei è stata a Gela, ovviamente che sta girando il collegio elettorale per fare campagna, c'ha tanti problemi, è una città dove c'è abusivismo edilizia, insomma nessuno ci ha messo muoio... Guardi, il problema più grande di Gela, da quello che ho potuto vedere, sono in giro dall'inizio della campagna elettorale, è che è una città cresciuta anche molto, ma su un monoprodotto, su un monocliente. Quindi un sistema di piccole e medie imprese... Che ruotano attorno al petrolchimico. Che se n'è andato. Quindi questo è il più grosso problema che a Gela. Ritrovare, come dire, una nuova vocazione, però c'è anche per Gela adesso un'opportunità, che è quella delle nuove ricerche da fare in mezzo al mare, la piattaforma Argo Cassiopea, che è una grande opportunità. L'altra cosa che bisognerebbe fare, che un politico eletto lì dovrebbe fare è dire a Leni, benissimo. Qua c'è una grande opportunità di sviluppo, perché ricordo che il gasdotto che viene dalla Libia arriva a Gela per poi salire alla penisola, quindi avete una grossa possibilità di fare introiti, bene. Bisogna anche che facciate qualcosa per questo territorio. Parliamo di compensazioni ambientali. Parliamo di compensazioni economiche. Ah, non so esattamente quale... Per esempio c'è il porto di Gela che è totalmente insabbiato, potrebbe Leni investire sul porto di Gela. Comunque qualcosa bisognerà chiedergli. Ma andiamo un pochino anche sulle compensazioni ambientali, sulla cosa... Ora io non so esattamente di quale schieramento politico sia, faccio ammenda, è un errore da giornalista, ma il Presidente della Basilicata ha appena varato una legge che prevede bollette zero per i suoi abitanti sotto forma di compensazione ambientale rispetto ai danni che ha fatto il petrolchimico nella Lucania. Allora, è un modello che va certamente replicato in tutta Italia, ma le dirò in più una cosa, che non ha senso che i cittadini della Sicilia paghino così tanto le bollette. Qui ci sono imprese che stanno chiedendo. Le spiego perché. La maggior parte dell'energia la Sicilia la produce sul territorio e buona parte è prodotta da fonti rinnovabili. Quindi togliere dalle bollette il costo dei trasporti, perché non ha senso che la Sicilia che produce qua abbia il costo dei trasporti e scorporare il costo delle rinnovabili, perché l'energia prodotta dai rinnovabili costa molto meno di quella prodotta da fonti combustibili, quindi già sarebbe una cosa per far pagare meno le bollette siciliane. Il Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha lodato la Sicilia indicando questa regione come il possibile, come dire, l'esempio virtuoso per le tecnologie energetiche del futuro. Lei, diciamo, da parlamentare eletto nel territorio, la farà questa battaglia per le rinnovabili? Allora, le rinnovabili sono sicuramente una risorsa, producono energia pulita, però non li ludiamoci che a breve tempo noi possiamo sostenere... La switch non è rapido... No, bisogna anzi in Europa, diciamo, fare sì che la transizione energetica avvenga nei tempi e nei modi consoni al sostegno della nostra impresa, altrimenti manderemo a gamballare la nostra impresa prima del tempo e questo sarebbe un male e non un bene. Quindi transazione ecologica sì, ma non deve essere un'ideologia. Nei giusti te, coi modi e coi tempi, non facciamo propaganda, non ne facciamo una propaganda. Esattamente. La possibilità c'è, però aspettiamo i tempi necessari per la transizione. Ovviamente siamo arrivati al tema centrale di questa campagna elettorale, che diciamoci la verità, di argomenti politici è abbastanza scarro. La gente, i cittadini, le imprese sono alle prese con un caro bolletta che fa veramente paura, qui intuplicate. Molti decidono di chiudere. Lei è in presidenza della Commissione Affari Esti, si dice che sia colpa di Putin il prezzo del gas, ma come stanno realmente le cose? Allora, non è così, nel senso che questa crisi energetica era già alle viste più di un anno fa. Non avvertiamo il COPASY, lei non sta facendo l'endorsement di Putin, sta raccontando un dato oggettivo. L'aumento dei presti del gas è già stato più di un anno fa. Questa crisi stava arrivando, non c'è dubbio che il conflitto russo-ucraino, o meglio l'invasione russa dell'Ucraina sia stato un acceleratore. Ci sono tante cose che vanno fatte, alcune a livello internazionale, anche qua, sempre per sfatare il tema del vogliamo un parlamentare di qui. La maggior parte dei problemi che arrivano addosso l'Italia sono problemi globali, quindi bisogna anche affrontarli a livello internazionale. Alcune cose da fare a livello internazionale, ne dico una per tutte. Tanta parte di questo aumento è dovuto anche alla speculazione finanziaria. Ci spiega come funziona questa vicenda? Perché è complicata? Cioè per un panettiere che paga la bolletta cinque volte più di quanto la pagava prima, come fa a capire nella bolletta c'è lo speculatore della borsa di Amsterdam? Qual è il meccanismo che fa esplodere il prezzo del gas? Perché gli speculatori giocano nella borsa di Amsterdam, che è una borsa molto permeabile alla speculazione finanziaria, perché fa pochi scambi, fa circa 2000 scambi al giorno, che sono pochissimi, quindi è permeabile. Gli speculatori finanziari giocano… Quindi con pochi scambi per chi ha tanti denari è possibile manipolare il prezzo del gas? Esattamente. Ma sembra un po' il gioco di Herman S. delle biglie di vetro. Però questa è una cosa da fare. Ma il nostro mondo sta diventando un sottoricatto della finanza globale? Da tanti anni. Da tanti anni quello che è successo… Lei ha detto questo tanti anni, l'ha detto con una nota di tristezza che credo stia evocando Quello che è successo nel 92-94 in questo paese è stato lo scontro tra il potere della finanza e il primato della politica. Guardi è successo in tutto il mondo, nel nostro paese è successo in modo particolarmente violento per due fattori. Il primo che il sistema andava riformato, come Craxi chiedeva da tanti anni e quindi era marcescente, era fragile, andava riformato e quindi noi eravamo l'anello debole dell'Europa. L'altro motivo è che noi abbiamo avuto il partito comunista più forte del mondo occidentale che a quell'operazione dei grandi poteri finanziari si è messo a servizio. Quindi questo è un fenomeno… I viaggi negli States di personaggi che poi diventano capi dello Stato. Certamente. Questo è un fenomeno globale. Oggi il potere finanziario conta più della politica, tant'è che i giovani bravi non vanno più a far politica. La politica non è più il terreno di scontro dei migliori. I giovani bravi vanno a far finanza. Devo fare una domanda cattiva. Quindi un giovane bravo va a lavorare a Goldman Sachs e poi quando Goldman Sachs decide che quel giovane non serve più a Goldman Sachs, che faccio? Lo rimando a Palazzo Chigi. Non c'è dubbio che Draghi sia espressione di quel mondo finanziario, bancario. Però è stato in questo momento un buon presidente anche perché ha una reputazione internazionale che sicuramente ha fatto il bene del paese. Dopodiché io però trovo giusto che la politica si riprenda il suo primato. Quindi è giusto che Draghi abbia guidato il paese in un momento di emergenza. Guardi, se Draghi avesse voluto rimanere a Palazzo Chigi ci sarebbe rimasto. Lui per primo ha considerato finito quel momento di emergenza, adesso ne sta cominciando un altro. Ma è giusto che la politica si riprenda i suoi spazi. Guardi, io le dico una cosa. C'è chi chiede un voto contro, lo fa il PD contro l'avversario politico che saremo noi. C'è chi chiede un voto per l'instabilità, lo fa il terzo polo. Però hanno preso una botta nelle gengine fortissime perché con la dichiarazione di Draghi che dice no, grazie, un secondo mandato a Draghi no. Però scommettono solo l'instabilità. C'è chi chiede un voto per cambiare i 5 stelle, non sono credibili, come l'ho detto prima, hanno governato 5 anni con qualunque partner. Il centrodestra chiede un voto per la governabilità. In un momento difficilissimo per il paese, perché ci arriverà addosso uno tsunami, noi chiediamo un voto per governare, perché guardi che la stabilità politica è il primo elemento che può consentire la crescita del paese. Il sistema delle imprese ha bisogno di stabilità. La cosa peggiore sono regole che cambiano in corsa per provocare l'instabilità e una difficoltà alle imprese. E il problema principale è la crescita, perché solo con la crescita noi potremo affrontare il debito pubblico e la crisi che arriverà. Abbiamo parlato dei massimi sistemi dell'Italia. Io tornerei un attimo sul suo collegio di riferimento. Parliamo di giovani. Che prospettive possiamo dare ai giovani oggi in un mondo alle prese con una crisi devastante? Lei ha detto che probabilmente questa è la crisi più grave che ci tocca vivere dal secondo dopoguerra a oggi. Dalla Sicilia scappano tutti. Nel mondo. Come salviamo questi ragazzi vicini? Beh, intanto non disegnandogli un futuro da mantenuti, ma cercando di disegnargli un futuro in cui possano… Stiamo parlando del reddito di cittadinanza? Stiamo parlando del reddito di cittadinanza. Ci vogliamo dire una volta per tutte le verità, questo reddito di cittadinanza sta diventando un elemento che cambia anche le regole democratiche. c'è una perversione, cioè il risultato elettorale sarà condizionato da questo strumento. Allora, il reddito di cittadinanza è uno strumento di cui il governo deve avvalersi per veramente soccorrere le sacche di povertà e di bisogno. Ma non può diventare la regola di essenziazione. Ma non può diventare un meccanismo che dà adito ad abusi, a truffe, a falsa il mercato del lavoro e falsa anche il mercato della politica. C'è gente che si separa per avere i redditi. Gli avvocati di Gela questo mi hanno riportato. Quindi questo fatto… Non è questa la risposta per i giovani. Non è questa la risposta, bisogna creare opportunità, ancora una volta il problema è la crescita. e a una Sicilia che è una regione bellissima, che ha un tratto identitario riconosciuto in tutto il mondo. Che sono le sue bellezze artistiche, le sue bellezze naturali, la qualità della vita, quindi il buon cibo, il buon vino, la sua capacità di fare agricoltura di eccellenza. Però a questa regione va messa a disposizione, a questo tratto identitario vanno messe a disposizione infrastrutture che mancano e l'altro problema sono burocrazia leggera. Quali sono le due infrastrutture necessarie allo sviluppo della Sicilia? Non ci giriamo attorno. Ponte sullo stretto sì, ponte sullo stretto no. Alta velocità sì, alta velocità no. Allora, l'alta velocità è necessaria. Ci sono ancora treni che per andare da Trapani a Palermo lo mettono 5 ore e questo non è possibile. C'è una leggendaria storia del Frecciabianca. Bisogna dare continuità territoriale alle isole siciliane, perché non è possibile mettere 4 ore per andare a Lampedusa, oppure una notte intera sul traghetto. Poi il pesce a chi lo vendono questi Lampedusa? Hanno dei costi maggiorati? Infrastrutture e l'altro grosso problema che ho notato, burocrazie. Bisogna riformare la legge Bassanini che ha messo in mano alle burocrazie tutto il potere. Le due cose insieme sono iniziali per la Sicilia. In Sicilia si vota anche per la presidenza della regione siciliana. Come vede questa battaglia che c'è in corso fra il centro-destra e il centro-sinistra e il fenomeno cateno di Luca? Sarebbe meglio avere un governo nazionale allineato col governo regionale per dare più risorse alla Sicilia, per rendere più agevole? Lei spesso mi fa delle domande ma si risponde da solo. Mamma mia. Ha ragione. Io credo che avere il governo nazionale allineato al governo locale sia un attu per la Sicilia. Potrebbe essere una grande occasione. Dopodiché posso dire, in questi anni abbiamo chiesto ai politici gli scontrini, abbiamo chiesto ai politici che facessero un passo indietro. Io credo che sia venuto il momento di ritornare a chiedere serietà, competenza, lavoro, perché anche quello conta. Adesso quando dico bisogna essere nuovi, io rispondo no, bisogna essere seri. E avere competenze? Solo con l'esperienza ci si crea delle competenze. L'esperienza conta in politica, tanto. Un'ultima battuta. La guerra in Ucraina, che riflessi può avere nello scenario geopolitico del Mediterraneo? Guardiamola con una domanda molto semplice. Lei ha parlato di un'Italia che deve essere alleata agli Stati Uniti, ma non succube agli Stati Uniti e della Nato. Sì, però noi... Che stiamo correndo qui in Sicilia con tutte le nostre base militare? Allora, prima le parlo in generale. Noi ci troveremo di fronte, lo scenario geopolitico più probabile che ci troveremo di fronte nei prossimi anni è un grande scontro tra una grande potenza militare, economica e autocratica come la Cina e il mondo occidentale. Quindi è la vecchia storia di McKinder fra Rimland e Dert. Per quanto zoppicante, per quanto delle democrazie fragili, per quanto quello che vuole, ma Europa e America sono ancora le due gambe nel mondo libero. Il Mediterraneo e quindi la Sicilia non sono estrani a questo grande scontro. Il presidente Xi Jinping è venuto a Palermo. Non solo, ma la penetrazione cinese è molto forte in Africa, la penetrazione russa nel Mediterraneo è un fatto certo, assodato. Quindi noi dovremmo... Dalla Libia all'Sudan... Quindi in questo scontro noi ci dobbiamo schierare e non possiamo che farlo dalla parte dell'Occidente. Non dobbiamo avere dubbi. Non dobbiamo avere dubbi. Perfetto. Il tempo a nostra disposizione è finito, siamo stati puntualissimi. Questo è l'ennesimo... La testa è una cifra che è la competenza e dell'esperienza del senatore Craxi. Grazie al tempo che ci ha dedicato, in bocca al lupo per la sua elezione, ricordiamo a tutti, Stefania Craxi è candidata nel collegio uninominale al Senato di Gela, Agrigento e Caltanissetta per Forza Italia. Grazie senatore. Grazie a lei. Arrivederci a tutti, buona serata. Grazie a tutti.